Parla tifoso! Benvenuti alla Juventus oggi prima del telegiornale. Lasciate il vostro mi piace. E iscriviti al canale. La Juventus è molto vicina a garantirsi una grande gioia del calcio italiano. La Juventus investirà in uno dei migliori giovani talenti del calcio italiano, il giovane centrocampista Guido della Rovere, di 16 anni, che brilla con la maglia del Cremonese. I numeri del giovane italiano sono entusiasmanti, in sette partite ha segnato tre gol e fornito tre assist. La Juventus monitora già della Rovere da un po' al di tempo ed è in trattative avanzate per ottenere questa grande promessa del calcio italiano. Guido della Rovere è un centrocampista di grande talento, e la Juventus lo sa. Inoltre, la Juve riconosce che potrebbe guadagnare molto denaro nel caso in cui della Rovere diventasse una grande stella.